Allora, buonasera a tutti, mi sono sempre il Peder Kociancic, che scrive il mio canale Parla Lombardo in Cue, e in Cue, che è sabato 22 di agosto, in dove sono, assunti a Lisbona, che è la capitale del Portugal, come vi è la terza vita, e sono andato a camminare per la strada, sono andato in una piazza del commercio, che adesso, se ricordi no, come si chiama, in portoghese, pensi, sono sta buona devoltarla in un bar, ma se ricordi no, come si chiamava in portoghese, va bene, sono quasi tre rivali, è un bel piaccio, non adesso, è il verario più grosso, diciamo che Lisbona ha dei bei siti, dei bei canton, però le è un po' vuncia, però la piazza del commercio ha le no, la piazza più se vuncia che c'è qui a Lisbona. Dunque, sono qui a Lisbona e in portoghese, e soggiamo che vi altri si pronti a pensare che mi dicono di stupida, compagni che è Lisbona, è Lisbona, e che sei il portoghese, e anche la portugaina, e no, mi chiamo qui, io ne dico più, perché sono cresci, sono venuto grande, e ne ho più quella maniera di fare la gente, perché le fanno rite, perché di portoghese e portoghese le fanno rite, e neanche a portoghese, portoghese le fanno rite, e neanche a portoghese le fanno rite, e neanche a portoghese le fanno rite, e portoghese le fanno rite, no, non è molto divertente, dunque a me, mi chiedo no, dunque, a me, mi chiedo che è il vecchio padre che diceva portugale, portugaino, e portugale, e portugale, e portugale, e tutto quello lì. Vabbè, insomma, chi vede la piazza, chi vede anche il stato d'un cavallo, che diceva che sia un re portugese, un bel arco, e poi lì dà un bel stradone, che è il bel portico, mi chiede là, ha un po' la risposta portuguesa alla piazza, quella che è a Trieste, e poi chi vede, poi vede, che è il mare, la ducca, che è tanta roba, e già che mi chiedo un po' di dire, non si arriva a pensare come mette a parlare con i portugali, perché se vuoi domandare di mangiare o di tutto quello che vuoi domandare, in una quale maniera vuoi parlare, spero che si senta perché è il vento che è il bufa. E allora ovviamente anche l'inglese, però di altri savi che noi che viviamo in un paese di lingua romana, quando viviamo in un paese di lingua romana, abbiamo sempre la voglia, la tentazione, il desiderio di mettere a parlare, non in inglese, perché l'inglese è un altro campionato, allora di mettere a parlare senza l'inglese, allora di attaccare un po', improvvisare qualcosa, e ho capito che c'è qualcuno che gli ha sognato la lombarda in portoghese, per esempio, buonanotte o buonanotte, per versi più rustici, e in portoghese si dice buonoite, che un po', un po' suona come l'ombarda, però gli altri savi bene che l'ombarda è il tirare via ai bucani finali, che dice il gatto, il vento, il tempo, e viene sci, il sacco, e invece il portoghese, il bucani finali, è bene. Dunque, forse la mia maniera di mettersi a parlare con il portoghese, è quella di operare il bustocco, il bustocco che è la parlata quella del busto, dei paesi d'intorno, se no, Bianam, Fagnam, Casten, tutta quella zona lì, perché invece il bustocco conserva i bucani finali, e allora, tutto qua parlò del bustocco, ma mi è venuto un dubbio, perché forse è il controllo, è un lombardo che è la versione catalana o francese del bustocco, dunque, per Minga restare lì, in garbia, in del dubbio, e poi dire, vabbè, lasciamo perdere il bustocco. E allora, con una bella messa d'os di italiani, di lombardo, di francese, di spagnolo, con tutte le lingue e portoghese che ho sentito in strada, e ovviamente anche l'inglese, se sono buoni di far capire. Dunque, anche una morale in che la storia è qui? No, no, è la domanda perché vorrebbe finire su un po' il cuciorino, anche gli altri amici. Ma, anche una lezione, che è quella che ha messo un po', quel peder che faceva i battuti, compagni di Lisbona, di Bella, di Britta, di Cattiva, cattiva, no, la roba lì mi la dici più, e anche Portugale, Portugaina, Portoporesin, Portopita, Portopoe, Portopule, Portopulum, dire che la roba lì, no, mi la dici no. Dunque, adesso mi tegeves di domandare. anche perché siamo arrivati a 5 minuti e mesi, anzi 35, e con una panoramica finale della piazza, un po' la svelta, vi saluto e mi raccomando, se vedo in un partito. Ciao!